Se volete comprare giochi a bassissimo costo passate nel link in descrizione su istangaming.com Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, nuovo episodio di Deep Run Kankari con noi c'è Cathy Killer, lo salutiamo dalla crew e poi se entrate altre due persone normali ragazzi oggi doveva anche uscire l'episodio del Man in Black con Simux del calzeggio ma Simux non è disponibile quindi non ci riusciamo ragazzi ovviamente adesso invitiamo un altro perché ovviamente qua si crash, si quit eccetera eccetera superiamo i 100 like, lo sapete che non sono bravo nei Deep Run però comunque li facciamo perché vanno di muda, li facciamo e mi diverto comunque quindi ragazzi ci vediamo dentro la partita e si parte ragazzi con questo Deep Run, finalmente siamo riusciti a partire dopo 5-6 minuti di attesa perché non entrava un'anima prendiamo i cecchini e iniziamo a fare il Devastus quindi si parte, non mi arrampico ragazzi qua per evitare di cadere perché ho il joystick di merda assoluta vediamo un attimo quando si... niente, 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 neanche adesso adesso uno si è suicidato, di già, ma incredibile no ragazzi, ti ho preso, ti ho preso ma non ti sei fatto nulla perché è un cecchino schifoso eccolo ragazzi non riesce a stare lì non ries... da... ma come... come si fa? si suicidano si suicidano, incredibile non ci credo ancora raga, non ci credo secondo round ragazzi, adesso dovremmo fare un'attenzione magistrale ragazzi che vuol dire magistrale, che dobbiamo fare... dobbiamo stare veramente attenti si parte e prepariamoci ad essere perforati dal cecchino veloce, 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 vai veloce, tutto veloce ragazzi, tutto veloce non ho messo il caschetto perché non mi va sinceramente dai dai ragazzi ma ecco, ok, ok, ok allora ragazzi adesso dobbiamo fare attenzione alle esplosioni giustamente chi va per primo? non si sa è andato htkiller che si è suicidato adesso andiamo noi, via, via, via via ora esplode tutto vai raga la cosa più rapida ragazzi guardate non mi fa crampicare cioè, avete visto? ho cliccato due volte quadrato mi ha saltato se il gioco è buggato se fate male i cacchio di hitrun come faccio ad arrivare alle armi? vi fate male? è chiaro che mi suicido terzo round ragazzi cerchiamo di fare una santissima kill i hitrun sono proprio negato nelle kill ve lo dico, eh ve lo dico però comunque ve li porto perché comunque me l'avete chiesto tante volte poi prendono un botto di like, visual, support, eccetera, eccetera dai ragazzi niente io non so quando sparare mai niente quanto cacchio è veloce a correre? ragazzi, si è calato o no? avete visto ragazzi che è caduto? ma non è caduto quello ma lui sta là dentro come fa a star lì? no, ragazzi voglete vedere che si suicida nel punto mio? e l'ho preso, mamma santa l'ho praticamente arrostito allora ragazzi, quello sta dentro non so dove sta sinceramente o sta qua dietro? però è fermo eccolo, 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 eccolo dai, dai due kill fatte due kill fatte ragazzi andiamo così abbiamo vinto il round quarto round ragazzi rintentiamo sperando che non si bugga come prima perché ragazzi se fanno male dietro a me cioè come pretendono di riuscire ad arrivarci lì? se là non mi si arrampica ragazzi dobbiamo fare una cosa molto rapida ma tanto qua ci prendono me lo sento daie daie dai via ok togliamoci sta cosa orribile vai che usciamo veloci dai dai ora esplode ora esplode ho sbagliato io non sono morto ragazzi non sono morto con l'esplosione non sono morto mi hanno pure dimenticato della bomboletta di gas dai pazienza ragazzi pazienza noi ci proviamo lo stesso lui ce l'ha fatta superare la rampa di prima a me non me l'ha fatta fare perché sono caduto perché non si è arrampicato dai Kati conto su di te conto su di te anche se ancora è lunga da fare mettiti la la furtiva cosa ti posso dire e si cala si cala ragazzi è morto e che si è calato ragazzi la precisione su GTA è orribile perché comunque se voi correte poi si muove da solo un bordello adesso ragazzi andiamo per il quinto round ci siamo ragazzi con il quinto round adesso cerchiamo di fare la kill sì però dobbiamo killare la persona proprio il corpo dobbiamo prendere non l'esplosione noi tentiamo comunque ragazzi tentiamo ok ragazzi ok ragazzi l'ho preso sulla gamba ma non gli è arrivato il colpo perché ho visto che l'ho mirato in gamba no ragazzi impossibile va troppo veloce dai ragazzi tentiamo tentiamo di prenderlo da qua appena esce ma guardate come stanno fermi grande kati che l'hai preso kati si grande si 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 grande tutti e due lui kati killer impressionante mi ha fottuto tutte le kill perché il mio personaggio si sta citando abbiamo vinto ragazzi tutto ragazzi ringrazio kati killer per le kill me l'ha fatto lui il video praticamente io ho fatto il commentare e basta superiamo i 100 like per questo video commentate condividete questo video ragazzi e iscrivetevi al canale ovviamente per questo video è tutto se volete comprare giochi a bassissimo costo link in descrizione su instandgaming.com per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao a tutti ciao a tutti